Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'AdBlue, quell'additivo che hanno i motori diesel per abbattere gli NOX. Vi spiegherò tutte le problematiche, come funziona e come risolvere i problemi dati da questo impianto. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e seguitemi sui social TikTok, Facebook, Instagram. E mi raccomando accendete la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. Che cos'è l'AdBlue? L'AdBlue semplicemente è un additivo a base di acqua distillata e urea. Si può trovare dei benzinai, quindi quando si fa rifornimento si può fare rifornimento di AdBlue. Oppure si può trovare anche online o nei negozi con le classiche tanniche e quindi si può fare l'AdBlue da soli. Quindi si può fare rifornimento come fosse la benzina e si può fare da soli. Lo scopo dell'AdBlue è abbassare gli NOx, quindi la parte di gas di scarico che nuoce alla salute dell'uomo. Le normative europee ci danno delle indicazioni per cui le nostre automobili devono avere un certo tot di NOx per essere approvate e per poter circolare. Ho già parlato in un video precedente della valvola EGR e di tutte le problematiche legate alla valvola EGR e del suo funzionamento che praticamente ha in sostanza lo stesso scopo, quindi abbassare sempre questa percentuale di NOx. Anche l'AdBlue è uno di quei componenti che serve allo scopo. L'AdBlue è praticamente un impianto parallelo con un serbatoio apposta, separato ovviamente da quello del diesel. Questo composto va a un iniettore, l'iniettore è posizionato praticamente prima del catalizzatore, nello scarico. Quando noi accendiamo l'automobile l'iniettore spruzza, nebulizza l'AdBlue all'interno dello scarico, si unisce quindi l'AdBlue ai fumi di scarico, entrano nel catalizzatore, nel catalizzatore la temperatura si alza. Il catalizzatore che viene utilizzato quando abbiamo l'AdBlue si chiama SCR, che è un catalizzatore fatto apposta per questo tipo di impianti. In sostanza, quando l'AdBlue sale di temperatura, si trasforma in ammoniaca e anidride carbonica. L'ammoniaca e l'anidride carbonica nel catalizzatore, mescolandosi ai fumi di scarico del motore diesel, lo trasformano in azoto e vapore acqueo. È per questo motivo che viene utilizzato l'AdBlue, perché abbatte di circa l'80% le emissioni degli NOx, trasformandoli quindi in azoto e vapore acqueo, che non sono nocivi ovviamente per la salute umana. Come funziona e quanto costa? Ovviamente quando noi compriamo un'auto diesel, già sappiamo che le normative future sono molto stringenti e si cercherà di eliminare il diesel dal parco macchine mondiale. Comunque vada, il costo dell'AdBlue deve essere, diciamo, contato nei consumi di un motore diesel, in quanto il rabbocco dell'AdBlue va fatto ogni 10-12.000 km e costa all'incirca tra i 20 e i 40 euro, dipende da dove lo reperiamo e in quale momento, perché ovviamente i prezzi si alzano e si alzano anche questo additivo, perché questo qui è un vero e proprio additivo, ha una funzione proprio da additivo. Possono trovare anche online, quindi il rifornimento si può fare sì dagli benzinai, ma si può fare anche tranquillamente da soli, come fosse una tannica di benzina. Abbiamo il nostro serbatoio a fianco del serbatoio del diesel, quindi ci sono due tappi in sostanza, un po' come fosse un'auto a doppia alimentazione, a GPL e a benzina. Soltanto che il tappo blu non è il liquido di tergicristalle, come qualcuno potrebbe pensare, ho visto online che qualcuno pensava che fosse il tappo di tergicristalle o liquido di raffreddamento, ma è il tappo di un additivo, che è la di blu, che serve ad abbassare gli NOx. Quali sono i problemi legati a questo tipo di impianto? Ovviamente quando noi parliamo di un impianto aggiuntivo, questo impianto aggiuntivo è dotato di un serbatoio aggiuntivo, quindi un serbatoio all'interno a un galleggiante che potrebbe bloccarsi. Questo impianto è dotato di tubi che potrebbero anche questi imbrattarsi, perché l'acqua distillata insieme all'urea, che sarebbe il liquido di blu, tende a cristallizzare. Tende a cristallizzare e la prima cosa che va a otturare, ovviamente, è l'iniettore che lo nebulizza all'interno dello scarico, di tubi di scarico. Ci sono dei sensori, delle sonde, dopo il catalizzatore e prima del catalizzatore, che vanno a monitorare la qualità dei gas di scarico prima e dopo le iniettate di adi blu. Quindi, se una di queste sonde non funziona, ovviamente tutto l'impianto non funzionerà. Cosa succede quando un elemento dell'ad blu non funziona? Succede che si blocca l'ad blu. L'ad blu non funziona, l'auto non parte. Questo è un problema enorme, perché ovviamente è studiato in maniera che l'auto non possa circolare senza le iniettate di adi blu, perché senza le iniettate di adi blu il motore diesel avrebbe delle emissioni di NOx fuori da quelle che sono le direttive europee e quindi i limiti. E anche la macchina non si muove. Se dovessimo rimanere senza liquido adi blu, perché ci siamo dimenticati di farlo, nonostante la spia si accende come se fosse in riserva di benzina, quindi l'auto ci avverte, e noi dovessimo rimanere senza liquido adi blu, l'auto non partirebbe. Anche se facciamo rifornimento di adi blu, l'auto continuerebbe a non partire, perché va resettata la centralina col computer, quindi anche lì questo è un limite abbastanza grosso. Non ci possiamo dimenticare di non fare l'ad blu. I sensori di cui vi parlavo prima, che sono praticamente delle sonde lambda, queste sonde lambda hanno dei prezzi altissimi. Parla di 500-800 euro l'una e a volte anche di più. Per un rama Audi, Mercedes, eccetera, i prezzi di queste sonde sono altissimi. In alcuni casi, alcune case madri, quando notano un problema o un elemento, cambiano direttamente tutto quanto l'impianto adi blu. Per una questione di sicurezza o una questione di procedimenti di fabbrica, loro cambiano direttamente tutti quanti gli elementi, facendo spendere ovviamente al cliente finale più di 2500 euro, quindi una follia pura. Tutto questo ovviamente per rendere la nostra aria più respirabile. Ne va della nostra salute. Però, c'è un però, si può camminare senza adi blu, quindi possiamo evitarlo in qualche modo? Possiamo, come con la valvola EGR, quando vi ho parlato della valvola EGR, possiamo escluderla, toglierla, tapparla? La risposta ovviamente è sì. Si può escludere l'impianto, si fa in una maniera anche molto più semplice rispetto a una valvola EGR, a un catalizzatore, perché si può, nella maggior parte dei casi, si può escludere proprio a livello di centralina, per cui quell'impianto lì rimane morto, il serbatoio rimane vuoto e la centralina principale non ha, cioè non vedendo più l'impianto adi blu presente, non lo utilizza e quindi queste iniettate non avvengono e si spengono praticamente tutte le sonde lambda e la macchina va senza questo tipo di impianto. È illegale, non si potrebbe in realtà, però sicuramente il nostro motore ringrazierebbe tantissimo. Dietro a un elemento, diciamo semplice, come un addettivo che viene spruzzato nello scarico, c'è tutto un impianto che potrebbe dare problemi e dà problemi, perché dà problemi esattamente come la valvola EGR che vi ho spiegato nell'altro video. La domanda fatidica è se io manometto l'impianto, poi ho possibilità di fare la revisione senza dover rimetterci le mani? La risposta è sì. In Italia sì, perché quando noi andiamo a fare la revisione e ci controllano i fumi di scarico, gli NOx, come vi ho spiegato per la valvola EGR, gli NOx non vengono monitorati. Quindi è l'assurdità ovviamente all'italiana, abbiamo delle direttive europee e non le controlliamo in sostanza. Però l'automobile deve avere comunque tutti gli impianti e affogare i nostri motori. La domanda che uno potrebbe pormi è sempre la stessa, cioè tu cosa faresti? Toglieresti l'impianto a di blu nella tua auto? Oppure lo lasceresti lì e pagheresti meccanico eccetera eccetera per le revisioni varie di tutti i componenti? Andresti incontro a tutte le varie problematiche del caso? La risposta, questa è soggettiva ragazzi, perché dipende anche dalla forza economica di ognuno di noi, perché ovviamente avere un'automobile che sappiamo che darà problemi a livello di valvole EGR, catalizzatori, impianto a di blu, comporta una certa spesa. Quindi se siamo in grado di sostenerla, ovviamente all'ambiente gli facciamo un favore. Dall'altra parte, se pensiamo che imbrattare degli iniettori, combinare delle parti di impianti, porta l'utilizzo del meccanico, quindi il meccanico ha l'officina, l'officina è riscaldata, pezzi di ricambio sono fatti nelle fabbriche eccetera eccetera. Se pensiamo a tutto questo in generale, la domanda è cosa inquina di più? Inquina di più il motore lasciato stare, col motore diesel funzionante, che non si rompe mai perché non si affoga mai? Oppure è più sostenibile la sostituzione dei pezzi, l'utilizzo di additivi, di acidi per lo scioglimento di tutte le sostanze che vanno a incrostare il motore eccetera. So soltanto che magari vorrei un'automobile che non mi desse dei problemi, quindi la risposta avete già capito probabilmente quale sarebbe. Ragazzi ditemi la vostra, io spero di essere stato utile, spero di avervi dato delle dritte. Raccontatemi voi nei commenti la vostra esperienza, se avete problemi, se quanto sono costati i problemi che avete avuto. Vi rimando a tutti gli altri miei video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e accendete la campanella. Mi trovate anche sui social, su Facebook, TikTok e Instagram col nome Meccanica per Tutti. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!